Buongiorno a tutti quanti, grazie, siete arrivati a oltre 100.000, un bellissimo traguardo. Nei prossimi due giorni faremo più di una conferenza, tra voi e noi, una conferenza stampa con i veri tifosi che sono poi dei giornalisti sinceri, ma anche giornalisti regionali molto spesso sono sinceri, non vorrei dire che voi siete gli unici sinceri, ma siete quelli che percepite le cose importanti, avete un senso vero da tifoso e quindi meritate tutto il mio rispetto e tutta la mia attenzione. Faremo una conferenza toccando gli argomenti che vi stanno a cuore, ne faremo anche più di una, io ripartirò giovedì da Di Maro, quindi abbiamo tutto il tempo per confrontarci almeno un paio di volte, poi tornerò qui domenica prossima e da lunedì ne faremo altre due, così nel giro di una settimana ci saremo sentiti e confrontati ben quattro volte. Grazie e buona giornata e comunque sempre Forza Napoli.